Grazie a tutti. È la parola chiave dell'esperienza di Rondine, in realtà dialogano da più di 20 anni quelli che la storia definisce nemici, quindi vengono dai popoli in guerra, paesi, nazioni o guerre civili, giovani meravigliosi, coraggiosi che tendono la mano a questo oscuro personaggio che è il nemico, poi scoprono che è una persona, assolutamente come l'altra parte, iniziano un dialogo intenso e duraturo perché l'esperienza dura due anni e poi tornano nei loro paesi con una mentalità completamente cambiata, perché cambiare l'idea, il veleno del nemico non è un'operazione di poco conto, quindi è proprio un cambio di mentalità, quello di cui c'è bisogno non solo nei luoghi di guerra ma forse un po' da tutte le parti. Anche nei luoghi di pace, infatti Rondine si pone come cittadella della pace, forse anche per questo? Sì, direi che abbiamo estratto dall'esperienza di Rondine qualche cosa che può essere trasferito in ogni ambito perché noi diciamo che il nemico sta in incubazione in ogni relazione, quindi non abbiamo un'idea facile della relazione ma un'idea straordinariamente bella perché nelle relazioni curate può nascere un grande sviluppo e forse anche l'alba di qualcosa che ancora tutti insieme cerchiamo e che è una civiltà nuova che però nascerà sicuramente su relazioni rinnovate e una cultura nuova delle relazioni. Grazie mille, buon intervento. Grazie a voi. Grazie a voi.